Vuoi dire una cosa pure te? Dilla pure te Giorgio, prego amico mio. Innanzitutto buonasera a tutti, sono orgoglioso di essere influencer e voglio dire una cosa al caro Musazzi. Vuole dire una cosa al numero 2, 7, a Ambo Terno. Il numero 7, Musazzi, che la riconoscono tutti e ti fanno anche per lei in quella sedia lì. Comunque per il fatto che la riconosco, lei fa il stesso lavoro che facciamo noi. E poi posso dire una cosa, posso dire una cosa, aspetta, non voglio screditare, però quello che fate voi, il vostro lavoro, dopo venite a chiederci una mano anche a noi per la pubblicità e per i prodotti che fate, quindi. Bene, allora, visto il pubblico sarò semplice ed elementare, io ho la possibilità di fare quello che fate voi, ma non lo faccio. E cos'è che... Cosa? L'influencer, ma che loro è? Fermi! Ma che loro è? L'influencer, ma che loro è? Prego Cristina. Intanto per rispondere a Giorgio, qui Musazzi non è un influencer, lui non percepisce soldi. Lui sta sui social, anch'io sto sui social, ma non percepisce soldi. Tra l'altro voi avete milioni di follower, ma ve li comprate i follower, siete degli sfigati! Grazie! Grazie! Grazie.